Ciao a tutti, io sono Snake e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere la class gem del Neon Ninja, anche questa una delle mie preferite. Allora, la descrizione è molto lunga, quindi vi faccio un breve riassunto. Prima di questa class gem si poteva utilizzare questa abilità per diventare, diciamo, invisibili e poter sparare tirando un colpo di spada, tre shuriken. Questa class gem ci permetterà di sparare uno shuriken molto più grande che avrà l'effetto di questa abilità, ovvero dello Stasis Blade. Questa abilità rende stunnati i nemici per un breve lasso di tempo. Inoltre, se colpiamo un nemico tre volte, prima di utilizzare l'abilità, abbiamo un bonus di danno e di danno critico. Quindi andiamo subito a vederla. Come potete vedere, colpendo tre volte si attivano tutti e tre gli anelli e sparando, con tutti e tre gli anelli attivi, colpirà tutti e inoltre li terrà stannati. Ora utilizziamo una pozione per shottare ste robe, shottare una parola. Però comunque è molto forte come class gem, soprattutto perché unisce più abilità insieme. Ora quello mi ha rotto le scatole, non è morto, va benissimo. Bene ragazzi, questa era la class gem del Neon Ninja e noi ci vediamo in un prossimo video con una nuova class gem. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.